Molta gente sta chiusa in casa. Questa maledetta pandemia ci ha riportato a ripensare quali sono i nostri veri valori. Molte persone stanno morendo nella mia nazione, in Italia, come in Irlanda, dove vivo e un po' in tutto il mondo. È una situazione triste e deprimente, ma oggi ho deciso che ne ho abbastanza. Benvenuto o benvenuta su questo canale. In questo canale io risparmio, di solito mi occupo di finanza personale, di come sto crescendo in questo campo e di come sto migliorando. Però sento che non sto facendo niente per aiutare le persone che sono in difficoltà, per cui ho deciso di fare questo video completamente diverso dal solito, fatto di gags, spero comiche, per raggranellare donazioni da destinare alle associazioni che ogni giorno sono sul campo a combattere in prima persona questa bruttissima pandemia. Non sono un comico, ma sono un cazzone, uno stupido di natura. Magari non ti farò ridere, ma magari chi lo sa, potrei strapparti un sorriso, o al massimo sai a chi lanciare i pomodori che hai scomprato al supermercato l'altro giorno. Punta al monitor, eh? Trovi qui sotto i dati del mio conto Paypal e del conto corrente su quale puoi fare i versamenti. Il mio obiettivo è di arrivare ad almeno 10.000 euro e sinceramente non importa quanto tu andrai a donare, in base alle tue esigenze. Più soldi raccoglieremo e più associazioni potremo andare ad aiutare. Decideremo assieme quale associazione andare ad aiutare, magari lasciandomi un commento qui sotto al video con l'hashtag ioaiuto e scrivi di fianco quale associazioni secondo te dovremmo aiutare e per cui a chi mandare i soldi. In base a questi commenti deciderò a chi mandare il bonifico oppure spero che siano i bonifici se riusciamo a ragranellare tanti tanti soldi. Ma non stiamo con le mani in mano, basta col pippone e trovo tutto pippone triste e buona visione. Benvenuti al TG Minchie, oggi edizione speciale dedicata alla morte di Covid-19, una morte che ha messo in subbuio il panorama mondiale e che ha aperto numerosi interrogativi. Nella edizione di oggi avremo diverse personalità, proveniente anche da diversi campi, che ci spiegheranno come una tale tragedia possa essere avvenuta. Una tristezza che ha generato una ondata di proteste per strada culminate in una manifestazione spontanea per l'ottenimento di diritti maggiori per i pipistrelli. In prima riga era anche presente Batman. Ma passiamo la linea al primo ospite, intervistatelo al nostro inviato Pasqualino e Sette Bellezze. In offerta per voi il Rettore della Università della Vita di Tor Sapienza di Roma. Pasqualino, la linea a te o a te la linea. Buongiorno Rettore, con la morte di Covid-19 il mondo è in subbuio e solo l'istruzione può dare maggiore consapevolezza alle persone su come comportarsi, affinché queste tragedie non avvengano più. Bella G, e che te vuoi dire, il mondo si è capovorto, i nostri corsi avranno un grosso impatto sulle persone normali, come me e te. Non stiamo a far corsi del cacchio, ma corsi utili che andranno a formare le gerarchie dei nuovi colti. De che te vuoi dire, non andremo più a seguire la scienza, scienza che conosciamo. Rettore, si spieghi meglio quali corsi e in che senso la scienza non verrà seguita. Ah bello che te devo dire, i corsi sono strutturati in modo che la gente non si deve andare a prendere due lauree a farlocche e finte cose tipo medicina, astronomia, immunologia che devono anni e anni per i cazzate, solo per te spillare i sordi, dai, eh dai, tutte bufale. Noi proporremo corsi di durata dalle tre alle quattro settimane, corsi quali astrologia, ricerca notizie vere su Google, Facebook e tutti i corsi di tuttologia applicate, insomma, gli dobbiamo fare il culo così a sti culi della scienza. Ma come si stanno a chiamare loro, scienza, guru, che chissi, se babba. Ma chi conoscevo? Si sta riferendo a qualcuno in particolare, a chi si riferisce in questo caso. Ma come a chi mi riferisco, a sti personaggi farsi, tipo che Roberto Burrone, Claudio Bressanone, quei due là. Lei per caso intende Roberto Burioni l'immunologo? E per caso anche Dario Bressanini, il chimico, il famoso chimico amichevole, chimico di questo. Vabbè, sì, vabbè, come si chiamino loro, ma non è che mi interessa a me, basta scienza farsa, ecco, tutta qua. Ora in poi, d'ora in poi, con i nostri corsi, te devo imparare tutto, è meglio. In quattro settimane al massimo, te, hai visto che andiamo a vincere noi? Eh, non loro, ha! Grazie mille, rettore, le sue parole sono profonde e le apprezziamo tantissimo. La linea allo studio, da Pasqualino, Sette Bellezze. Grazie Pasqualino, ora andiamo in diretta con Deborah L'Orso, a Pomeriggio Minchie, che ci parlerà durante la trasmissione di Covid, da un aspetto prettamente personale. Deborah ci darà solo alcune anticipazioni prima della diretta. Deborah, la linea a te ne... Grazie! Oggi a Pomeriggio Minchie parleremo di Covid, una vita spezzata da sesso, droga ed alcol, nella sua piccolezza, nella sua minima presenza, passata e notata ai molti. Una storia fatta di un'infanzia infelice, i problemi con la droga e la sua dubbia ipersessualità. Lascia un miliardo di figli e altrettante mogli, una storia tristissima che ci colpisce molto, ma prima di parlare di lui, parleremo delle nuove merendine del mulino Monco, le merendine tristi e felici, ripieni di amara bontà, che fa tanto audience, per cui tanta tristezza, ma tanta felicità subito dopo la pubblicità! Grazie mille Deborah! Ora andiamo assieme a una persona molto famosa, che nel campo della cosiddetta scienza, Angelo Alberti, famosissimo, va a visitare un antico artefatto dove si pensa che il piccolo Covid, assieme alla sua progenie, sia nato. Infatti, dopo questa piccola tragedia, sono in tanti a voler capire dove le antiche origini di Covid siano iniziate. A te Angelo, al tuo programma in Collational Channel. Ci troviamo di fronte all'ingresso di un antico sito archeologico, costruito fra il primo paleolitico, il mezzo encefalitico e il tardo rincoglionitico. Questo arco porta all'ingresso di quello che Covid-1 e Covid-2 definivano la porta del potere. Qui, nata la leggenda, due pepistelle, estrelli accudirono il primo re dei virus, Covid-0. Ora ci avviciniamo alla porta del potere con questo artefatto, nel senso che è proprio un tossico di scienza e tecnologia, una specie di passepartout. Apriremo il grande tempio. Dall'ingresso si scende una serie di scale lunghissime e arripide, buio pesto qui. Nell'atrio principale troviamo un custode che da secoli tende a leccarsi le parti intime e a scorreggiare copiosamente nel mio retto. Il suo nome è Kraffin. Su questa parete possiamo trovare un antico murales, chiedo scusa, un'antica iscrizione. Da un lato scritte di dubbia provenienza. Qui invece uno strano disegno. Cosa vuol dire? Nessuno l'ha mai capito. Si dice che sia una primordiale forma di strumento da caccia. Forse una fionda. Oppure che sia un disegno incompleto. Raffigura anche un aggeggio particolarmente inutile, addetto al sesso femminile, ma molto utile a quello maschile che lo utilizzava e forse lo utilizza spesso in privato oppure anche di nascosto. Un'altra tesi parla di un disegno incompleto di qualcos'altro. Ma con la moderna tecnologia cercheremo di dare una forma computerizzata e completare il disegno che altro non è che il voto di un politico. Un politico a caso. Tanto non è che ci sia molta differenza. Nessuno lo saprà mai. Sappiamo solo che qui è nato tutto. La linea allo studio. Si conclude con questo intervento lo speciale dedicato alla morte di Covid-19. Se devo essere sincero a me e credo a molti altri, stava parecchio sulle scatole questo tipo e a me non mancherà assolutamente. Speriamo che non si presenti nessun parente tipo Covid-20, Covid-21, che Covid o non lo vid, non mi piace comunque. In ogni caso chiudiamo lo speciale passando la linea a uno speciale sugli sturi a lavandini senza bicarbonato. Pensate un po' a cura del professor Dario Bressanini e uno speciale su come blastare la gente a cura del dottor Roberto Burioni. Per oggi è tutto e alla prossima puntata. Arrivederci. E' fanita? Eh? Non siamo più in onda? Mi fa fame, ti ho detto, io voglio la pasta con un pepareggio. Allora è pronta questa cazzo di pasta, sì o no? Ma che siamo ancora in diretto. Alla prossima puntata. Ciao a tutti.